Ciao di nuovo, fermi tutti, mi sono appena accorto, in live è sempre così, di aver sbagliato i calcoli per poter fare un confronto, un raffronto corretto fra le due tempistiche dei metodi di studio, chiamiamoli metodi di studio, uno non metodo che ho seguito involontariamente per tanti anni, l'altro è quello strutturato, consigliato dagli esperti. In particolare è stato appunto preso dal libro, ultimo libro di Alessandro De Concini, a pagina mi sembra 68, cioè proprio il sottocapitolo dedicato allo spacing e quindi alla necessità per un buon apprendimento di lazionare i ripassi, renderli frequenti nel tempo e non troppo lunghi ecco. Allora, mentre nella stima che avevo fatto sul mio metodo di studio scorretto del liceo, di quegli anni lì, dell'università, ho più o meno messo dei numeri che mi sembrano accettabili, il mio brufolo gigantesco sulla punta del naso mi dice che l'altra stima non è corretta, è sottostimata proprio perché, è un volo sottostimato proprio perché non ho moltiplicato correttamente i vari, le varie tempistiche relative alle micro unità di ripasso. Allora, rifacciamole al volo. Cancello proprio tutto così non vengo influenzato. Abbiamo detto che mi aspetterei di andare più veloce, più velocemente, mentre posso leggere senza la necessità di memorizzare tutto, 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 senza poter correre, cioè dovendo evitare e minimizzare qualsiasi rischio di dimenticarmi dei pezzi che poi non potrò più recuperare successivamente proprio perché vado a leggere e studiare una volta, poi ripasso le cose più importanti e se proprio mi va bene do un'altra letta alle cose indicate come principali. Nell'altro caso, invece, noi possiamo usufruire e appoggiarci su tanti altri richiami e questo ci favorisce e ci rende anche più leggera la prima passata. È chiaro che bisogna perdere tempo, impiegare tempo, investirlo anzi, nel fermarsi per ragionare, essere sicuri di aver compreso i concetti e, insomma, fondare delle solide basi su cui costruire, poi tutto il resto della piramide, però abbiamo altre possibilità per poter recuperare quelle informazioni, quindi andrei sicuramente, mi aspetto, un terzo più veloce, un 33% più velocemente, ma anche un 50%, stimiamo un 50% in più e abbiamo ottenuto 35 ore. Ora, ho fatto il calcolo a mente, spero di non aver sbagliato. 17, 34, 51, ci siamo, 35. Ora però andiamo a vedere cosa avviene successivamente. Il ripasso degli argomenti del giorno precedente. No, scusate, il primo ripasso è dopo qualche ora. Quindi dopo qualche ora avevamo detto, avevo detto, stimiamo 20 minuti, mezz'ora, stimiamo mezz'ora, andiamo per eccesso. Quindi mezz'ora in più per poter ripassare quello che abbiamo studiato nell'ora e 40 barra due ore precedenti, calcolando che stiamo utilizzando la tecnica del pomodoro e così via. Almeno un'unità, quindi 25 minuti. Quei 25 minuti però si vanno a ripetere su tutto il mese. Questo era un calcolo fatto su un mese di studio. E poi abbiamo, diciamo, abbiamo sorvolato sulla possibilità che l'esame verta su tre mesi, un trimestre, un quadrimestre, diciamo un trimestre, e che quindi poi sia necessario magari anche un ripassino a ridosso dell'esame. Però magari lo includiamo andando per eccesso in questo tipo di stima. del punto 6. Quindi mettiamo che siano 25 minuti. 25 minuti per 6 giorni a settimana, per 4 settimane abbondanti in un mese. Iniziano a diventare non così pochi. Siamo intorno alle 10 ore. Vado così. Faccio una stima di massima. Poi diamo che siano 24 per 25 minuti. Dai, diciamo 10 ore abbondanti. Direi una decina di ore. Poi dobbiamo andare al giorno successivo. Lì abbiamo detto che possiamo andare un po' più veloci, perché l'abbiamo già visto a ridosso due volte, quindi mi aspetterei magari un 20 minuti. 15, 20. Poniamo un 8 ore. Totali nel mese. Poi abbiamo il ripasso, scusate, il ripasso infrasettimanale. Questo avevo detto che era un po' più corposo, perché intanto di ripasso infrasettimanale alternato con il ripasso settimanale, ma dovrebbero poi coincidere le due cose, ne possiamo provvedere 4 o 8. Ciao Dante! Diciamo 5 in un mese. Sono 4 settimane abbondanti. E questo dovrebbe avvenire però ogni 3-4 giorni. E poi abbiamo il ripasso settimanale che andrebbe a coincidere, quindi a includere due ripassi. Facciamo il ripasso settimanale più lungo e direi che più o meno ci siamo, però dall'altro lato stiamo pure riducendo il ripasso della prima parte della settimana, quindi non saprei bene come stimarlo. Qui si dice circa un'oretta per il ripasso settimanale. Io andrei tranquillamente sulle due ore, per i motivi che vi ho detto. Quindi 4 settimane abbondanti sarebbero all'incirca 8-9 ore per il ripasso settimanale. Per quello l'infrasettimanale in sé è più piccola, è più breve e potremmo sicuramente stare forse... Però sono, posso sapere 4 giorni. Mi verrebbe di dire un'ora? Sommiamo li entrambi, siamo sulle 15 ore abbondanti, secondo me, facendo l'infrasettimanale più il settimanale. Quindi, qui direi 15, ma forse addirittura è stimato un'ora per il settimanale, ma io veramente faccio fatica. Io direi addirittura anche quasi 20. No, facciamo 15 ore, potremmo starci. Questo per il punto 4 e il punto 5. E poi c'è il ripasso mensile, che era quello più corposo. Io avevo stimato più o meno in 5-10 ore, prenderei 10 ore calcolando che abbiamo pure poi la prova d'esame, quindi dobbiamo essere sicuri della nostra preparazione. Quindi più un 10 ore. Andiamo a fare la somma. Qui in realtà metterei un 15-20. Se prendiamo i valori più alti, questo è un 5-10, però prendo i valori più alti per il motivo che ho detto, questa è una stima per eccesso. Siamo già a 30 ore, 40 ore, 48 ore. Più 35, vedete che non è il valore che avevo dato prima di 75 ore, ma siamo, insomma, su quasi 18-20 ore in più. Diciamo 18 ore in più. Quindi potrei aspettarmi all'incirca tra le 80 e le 85 ore, effettivamente, totali. Le conclusioni non cambiano. Siamo comunque in linea con le 80 ore che avevo stimato del metodo scarso, facendo tutto di corsa che avevo previsto prima, proprio perché perdiamo tanto tempo all'inizio a fare la prima lettura. Qui si parla di materie non particolarmente astratte, quindi non matematica o fisica. E direi che le conclusioni più o meno rimangono le stesse. Anche dovessimo cadere sulle 85 ore, non succederebbe nulla di gradito, sarebbero 83 ore la stima che avevo effettuato. Non mi convince tantissimo quest'ora del ripasso settimanale, però si baserà sul fatto che abbiamo fatto tanti altri ripassi, quindi è possibile che se qualcuno l'ha provato, lo stesso autore volesse, insomma, correggere, mi aspetto che magari questo valore si abbasserà. Io però ho cercato di fare una stima per eccesso, visto che c'è già un bel vantaggio avere una comprensione migliore e più profonda degli argomenti e più duratura. Quindi direi che per risparmiare, a seconda dei casi, 15 ore, 10 ore, 5 ore, magari neanche le risparmi, assolutamente valga la pena. Quello che potrei pensare e prevedere, se una persona è particolarmente gifted e gli viene proprio molto facile studiare, ricordare le cose e fare collegamenti, magari dedicare il 10% di questo tempo ad approfondire qualcosa di collegato, saltando una di queste fasi. Una, non due, magari accorpando nel ripasso settimanale anche quello infrasettimanale, non saprei. Una di quelle un po' più corpose, quindi magari risparmi quelle 5-8 ore, le puoi dedicare a leggerti un altro libro, fare delle ricerche, approfondire un argomento, poi comunque ti funge anche da parziale ripasso, ecco. La vedo così, non c'è pubblico, ho parlato da solo, però almeno sono sicuro che ho corretto quel numero troppo troppo sottostimante che avevo fornito. Rivediamo un attimo il volo, andiamo più veloci, un 50%, ci sta, dobbiamo fare poi 5 ripassi, anziché 1, forse 2, poi successivamente andiamo a fare un controllino a fine giornata, 25 minuti su 2 ore che abbiamo previsto di studio, quindi in questo caso, è chiaramente un caso così, che abbiamo deciso noi, ma ho deciso di prendere 2 ore totali, in 1 ora e 40 effettiva, 2 pomodori da 50 minuti, per una materia studiata 6 volte a settimana, ci sono altre materie da studiare, quindi va bene, e dispermiamo un pochino, quel tempo lo vale, andiamo ad impiegare e ci copriamo la prima e la seconda fase di ripasso, quella a fine giornata e quella prima di studiare il giorno successivo, poi però arriva il problema del ripasso infrasettimanale. Il ripasso infrasettimanale io non lo so contestualizzare bene, non ho bene una cognizione, ma sommandolo al ripasso settimanale, sono 2 ripassi, i infrasettimanali diventano effettivamente parecchi, perché 2 volte a settimana, insomma, sono 8-9, ma volendo stimarlo in 1 ora scarsa, andiamo a stimarci poi un vantaggio nel ripasso settimanale, o cui potremmo forse fare anche in 5 ore, potremmo starci, tra l'altro il ripasso settimanale cadrebbe insieme, in concomitanza con il ripasso infrasettimanale, chiaramente però è più lungo e prevede l'ultima settimana, cioè l'ultima parte di settimana, l'ultima metà settimana, che l'hai più vicina, quindi te la ricordi meglio, e la prima che hai però già ripassato con il ripasso. Diciamo che io dovessi saltare una fase, salterai il ripasso infrasettimanale, forse, però proprio così dirò un'idiozia. Quindi qui ho stimato in 15 ore, forse 20 ore, sono stato abbondante, ho detto 20 ore, proprio per prevedere magari un ripasso infrasettimanale che dura un'ora da ripetere, poi in maniera separata, anche quando fai il ripasso settimanale, che poi li va a unire tutti e due, quindi mi ripasso prima gli ultimi tre giorni, prima i primi tre giorni della settimana, poi gli ultimi tre giorni, poi dico ripassiamoli entrambi insieme, non ha molto senso questa cosa, però ripasso tutto insieme e quindi vedo come si incastrano fra loro gli argomenti. Io ho paura che facendo così rischiamo di perdere di vista un po' i collegamenti, perché in effetti rileggiamo tutto insieme una volta sola. Leggere tutto insieme ti facilita la capacità di fare collegamenti e approfondire. Quindi per come la vedo io, una persona molto gifted potrebbe anche giovare il fatto di togliere questo qui e magari provare, fare un tentativo disastroso, magari provare a ridare un'occhiazza tutto insieme, vedere se ha delle idee curiosa, si cerca degli spunti di approfondimento, che magari ti tornano utili all'esame, magari no, ma arricchiscono il tuo bagaglio. In un caso più strutturato uno procede in questa maniera, va sul sicuro e le ore rimangono più o meno quelle. Certo, 10 ore per fare il ripasso tale, 5-10 ore, non so se sono fattibili, ma è chiaro che noi dobbiamo aver già ricordato tutto. Sono poche per fare i collegamenti. Secondo me 10 ore, 5-10 ore sono poche per fare i collegamenti e gli approfondimenti. Quindi si rimane su un livello di apprendimento molto scolastico. Quello forse è l'unica pecca di questa impostazione, ma per essere studenti va benissimo. Per puntare a qualcosa di più forse ti limita, non allena molto la tua capacità di pensiero creativo, correlando le varie aree, che è proprio ciò su cui verterebbe un mio metodo per approfondire la logica, ma imparare un po' a guardare e a spaziare. Quello tra l'altro è il centro da cui possiamo poi muoverci, la logica formale sulle altre materie scientifiche. Quindi ecco, per le materie umanistiche immagino questo sia assolutamente eccellente. Per le materie molto astratte, molto teoriche, forse per le persone gifted, molto curiose, volenterose, si potrebbe forse cambiare un po'. Però mi sembra che questo metodo abbia la sua massima efficacia proprio relativamente a materie che escludono matematica e cose così. Può essere utile, ma andrebbe forse un minimo riadattato.